Eccoci qua, allora partiamo per la prima vera e propria escursione di questo weekend. Siamo nelle Marche, provincia di Pesaro Urbino e arriviamo da questo punto che si chiama Paggino Castello per arrivare su un bel vediere che sta sopra le golle del Furlo. Vediamo un po' se ci arriviamo, è una cosa molto difficile. Acqua non potabile? Adesso un letto! Scusa, eh? Vabbè, adesso non morirò per l'interno di qua. Ecco. Ma me ne faccio il quale andate? Non so se la rinnessa. Non so se la rinnessa. Non so se la rinnessa. Non so se la rinnessa andiamo sopra. ma quella non c'è Grazie a tutti Grazie a tutti Salutatemi un attimo Vai col sentiero verde Oh auguri è quasi finito l'anno Aspetta no sto facendo una ripresa Vai bella questa escursione sentiero verde Cima delle gole del furlo Belvedere delle gole del furlo Provincia di Urbino Pesaro Urbino nelle Marche Pesaro Urbino Vai attenta Sto attenta perché ti sembra che non stavo attento Ma dove? Pure qua dietro guarda Dove anche vai Senti ma adesso ti vai giù lì Torniamo di qua Passaggio difficile Sul naso del duce Sul naso del duce Passaggio difficile Questo splendido ambiente naturale Delle gole del furlo Nelle Marche in provincia di Pesaro Urbino Con l'associazione sentiero verde Bella escursione Alcuni non frequentati eri chiusi Nelle Marche in provincia Pesaro U oれる Pesaro Curso Quattro cento buonazzo Questo in arrivo In avanti